Una piaga sociale terribile, ignoranza che genera violenza, possessione o rabbia che diventano incubi perenni, lividi sulla pelle di milioni di donne in tutto il mondo. Solo in Italia il 75% delle vittime dei delitti compiuti in famiglia sono mogli o ex fidanzate. Nel periodo del lockdown i reati riguardanti la violenza sulle donne sono gli unici in aumento. Nella sola provincia di Campobasso le denunce per atti persecutori e violenza sessuale sono aumentate, 59 a fronte delle 49 dello scorso anno, mentre quelle per maltrattamenti in famiglia risultano leggermente in diminuzione, 59 denunce a fronte dei 70 casi del 2019. Covid ha aumentato ancora di più le forme di violenza intrafamiliare perché si è aggiunta ai maltrattamenti anche la discriminazione da un punto di vista economico. Io come consigliera di parità ho avuto un dato a questi dieci mesi e non è ancora completo e solo per la provincia di Campobasso ben 49 mamme si sono dovute volontariamente dimettere dal loro posto di lavoro e un solo padre. Questa la dice lunga su come ancora una donna deve da sola conciliare i tempi di vita propria con i tempi della famiglia. Io come donna vorrei fare un appello agli uomini e dire loro basta, basta con queste forme di prevaricazione, con questa forma di possesso, basta con questa violenza perché davvero non se ne può più. Ma vorrei anche come donna dire alle altre donne abbiate sempre più fiducia nelle istituzioni. Noi possiamo aiutarci tutte insieme se ce la mettiamo veramente con forza. Maria Grazia La Selva, Presidente dell'Associazione Libera Luna e ovviamente responsabile del Centro Antiviolenza, nonché Cavaliere della Repubblica proprio per i servizi che si offrono proprio in relazione a quelle che sono le dinamiche della violenza di genere. Un punto di vista in relazione a quella che è la giornata nazionale proprio per sensibilizzare ma anche per informare su quelli che sono gli strumenti a disposizione delle donne. A parte questa giornata noi siamo impegnate attivamente sul territorio tutti i giorni a sostegno delle donne vittime di violenza che si rivolgono a noi e appunto offriamo una serie di servizi, i servizi che tutti i centri antiviolenza devono offrire a supporto di queste donne. Noi facciamo con loro un percorso di uscita dalla violenza per raggiungere l'autonomia quindi le aiutiamo anche materialmente nella ricerca di un lavoro dando loro delle borse lavoro orientandole appunto all'autonomia. Le aiutiamo e le sosteniamo anche con dei corsi di formazione perché spesso le donne che denunciano purtroppo non lavorano quindi non hanno un'indipendenza economica. Laddove invece c'è giustamente il lavoro diventa un pochettino più semplice e le seguiamo anche nel percorso legale di denuncia. Inoltre nonostante non abbiamo una casa rifugio noi nel momento in cui la donna denuncia abbiamo a disposizione degli alloggi protetti dove le donne possono stare con i loro figli. Gli esperti parlano di approccio olistico capace di coinvolgere tutti gli attori sociali dall'istituzione alla scuola alla famiglia queste le parole del capo della polizia Franco Gabrielli. Vinci le tue paure, i tuoi dolori, la tua vergogna. Non sei sola, noi ci saremo sempre. Grazie.